Il Lepescara come da pronostico si aggiudica il match amichevole di Pianella e procede a piccoli passi l'avvicinamento alla nuova stagione. Nel giorno dell'inaugurazione del nuovo campo sportivo Mario Di Benedetto, Plizzari e compagni vincono la sgambatura con la formazione di Roberto Contini con il risultato di 9 a 0. In rete Cuppone con una doppietta e poi Meic e Jabuan nel primo tempo e nella ripresa nell'ordine da Loia, Ianes, Lescano, Amore e Veroli. A 25 giorni dall'avvio del campionato non manca il lavoro ad Alberto Colombo che spera di poter avere la squadra praticamente al completo prima di Ferragosto. Nelle prossime ore sono previsti altri arrivi e anche partenze. Gran lavoro in questo senso per il direttore sportivo Daniele Dellicarri. Intanto sono arrivati in città il difensore ex Ternana Mattia Bomen e il centrocampista Erdis Craia che hanno firmato il contratto e si sono messi a disposizione del trainer abruzzese. Domenica prossima Biancazzuri di nuovo in campo nel triangolare di Pineto al Mariani Pavone contro la locale formazione e lo spoltone.